Allora, la principale novità di Canale è un nuovo progetto interno per cui dedicheremo una risorsa allo sviluppo del segmento degli small e medium enterprise reseller, ovvero i rivenditori che normalmente vendono agli utenti finali nel segmento small e medium business, quindi oltre a continuare a gestire, supportare e sviluppare come sempre i nostri top partners che hanno creduto in noi e con i quali collaboriamo attivamente ormai da tanti anni, vogliamo appunto provare a sviluppare quel segmento di rivenditori che già conoscono Jabra e che magari hanno già venduto Jabra più volte, ma in maniera occasionale, per cercare appunto di supportarli al meglio, mettendoli nelle condizioni di poter offrire le soluzioni Jabra, sia audio che video, ai propri clienti con tutti gli strumenti necessari. Continueremo sicuramente a parlare di cuffie professionali, sempre più attrezzate di nuove funzionalità e migliorate sotto tutti gli aspetti, come per esempio la nostra recente famiglia di cuffie professionali Jabra Evolge 2, riconosciuta ormai dal mercato come il nuovo standard, ma certamente lato Jabra sentiremo sempre più parlare delle nostre soluzioni video e quindi tanta attenzione su Panacast. Devo dire tutti, perché proprio con l'avvento dello smart working e quindi con il rientro adesso in ufficio per cui lo smart working diventa più hybrid working, tutte le aziende che utilizzano Teams, Zoom o qualsiasi piattaforma di unified communication sono direttamente coinvolte ed interessate al nostro mercato specifico. Infatti purtroppo con la pandemia e la forte conseguente accelerazione nell'utilizzo delle tecnologie dovute appunto e soprattutto all'implementazione dello smart working come modalità di lavoro riconosciuta, le aziende hanno preso finalmente la consapevolezza che l'utilizzo di device professionali e certificate per le unified communication diventa fondamentale e quindi la cuffia, la device professionale diventa un vero e proprio strumento di lavoro imprescindibile.